Buongiorno a tutti, alle mie spalle questa spazzatrice che a breve sarà consegnata a Delia e che permetterà appunto di spazzare in maniera automatizzata tutte le vie del centro storico. Sapete bene che come amministrazione non ci fermiamo, guardiamo sempre avanti, cerchiamo di migliorare il paese dove viviamo e che amministriamo, rendendolo più pulito e decoroso. E con un rapporto di sinergia costante con l'SR Impianti, che ringrazio per la celerità e l'attenzione che ripone nei confronti dei comuni e del territorio in generale, abbiamo appunto preso questa spazzatrice che vedete alle mie spalle che utilizzeremo a breve. Ovviamente informeremo la cittadinanza su come verranno pulite le strade e su quanto verranno pulite le strade perché ci sarà un'ordinanza che appunto indicherà come rendere le strade appunto libere per poter permettere al mezzo di lavorare. Mentre la spazzatrice, quella che avevamo in precedenza, quella piccola che avevamo a Delia, serve per il cimitero comunale. Dato che è più piccolo e quindi tramite la spazzatrice che avevamo in dotazione e che abbiamo recentemente sistemato e manutenzionato, attenzioneremo tutti i giorni al cimitero comunale. Quindi come vedete non ci fermiamo, andiamo avanti con risultati su risultati, guardando al futuro e soprattutto avendo a cuore il benessere dei nostri cittadini. Avanti, avanti, avanti.